ciao a tutti ben trovati il video di quest'oggi si intitola i popoli e le forze occulte un titolo piuttosto evocativo che esamineremo in modo sintetico come nostro solito e come la natura di questi video abbastanza rapidi andiamo prima a leggere l'articolo che ho pubblicato nei miei canali social e poi lo commentiamo per ampliarlo un poco i canali social su cui pubblico questo e altri post sono la pagina facebook fosco del nero e il canale telegram intitolato ugualmente fosco del nero tra le altre cose ho da segnalare il gruppo facebook il cammino del mago il canale telegram fosco del nero e poi il gruppo facebook forza amore saggezza questi ultimi te però hanno una programmazione differente andiamo a leggere secondo la mia opinione siamo alle prese con definite forze occulte impiegate contro l'anima di gruppo delle nazioni e che trovano canali d'espressione attraverso il subconscio di persone influenzabili carenti di principi spirituali così scriveva di un forte una che ne sapeva parecchio ci circa 80 anni fa e le cose non sono cambiate affatto anzi le forze scure hanno nel mentre conquistato molti bastioni talmente tanti da aver avuto la possibilità di lanciare l'attacco contro l'umanità denominato cv sigla che tempo addietro significava curriculum vite e che oggigiorno rappresenta un differente tipo di curriculum meno professionale e più animico se potuto succedere è stato per un motivo solo perché tali forze hanno trovato molti canali psichici adatti in persone carenti spiritualmente tutto qui c'era una crepa nell'aura di massa e certe forze sono potute entrare è il medesimo principio della possessione ma applicato a livello macro e non a livello micro individuale questo vi spiega anche perché veniamo da decenni di intrattenimento televisivo cinematografico e musicale di bassissimo livello talmente tanto basso che i nostri avi viceversa famosi per le loro vette artistiche si sarebbero certamente vergognati di noi cosa direbbero dei tempi attuali culturalmente artisticamente i vari leonardo michelangelo brunelleschi vivaldi grossini puccini eccetera che abbiamo oggi invece non faccio nomi per non abbassare la vibrazione di questo articolo quando ero piccolo mi domandavo perché la televisione proponesse così tanta spazzatura ero bambino adolescente pure già lo notavo pur non avendo ancora il quadro generale ecco perché la consapevolezza della crescita interiore è la cosa più importante fra tutte se non si sviluppano sguardo scaltro sia letteralmente in base dalla manipolazione delle energie basse in verità la consapevolezza è l'unica cosa importante perché tutte le altre discendono a cascata e quindi sono secondari qua terminava il post non particolarmente lungo però molto molto denso in quanto comprendi alcuni elementi che sono letteralmente decisivi per la vita del singolo individuo e quindi per converso come somma dei singoli individui per la vita della collettività di un fortium parlava di attacco diretto all'anima delle nazioni operato dalle forze occulte cioè forze che sono occulte perché sono nascoste e che sono nascoste perché sono forze inferiche forze oscure quando le scriveva quello che abbiamo letto poc'anzi era il periodo della seconda guerra mondiale quando all'epoca oltre che eserciti sui campi di battaglia c'erano in azione differenti tipi di eserciti da un lato e dall'altro la situazione in realtà non è cambiata molto cioè è cambiata sul versante esteriore perché non vediamo più tanti eserciti in azione ne vediamo ancora tanti anzi questo è un periodo così da questo punto di vista ma se non li vediamo in azione a livello fisico sappiate sappiate che sono in azione a livello sottile in effetti noi siamo ancora in una guerra che non è quella attuale di cui si parla ma è una guerra spirituale che è ancora più mondiale della seconda guerra mondiale perché adesso le cose sono fatte ancora più collettive ancora più globali se determinati eventi finiscono per essere possibili guerre calestie crisi economiche problemi di vario tipo corruzione governi di tipo basso è perché la coscienza collettiva di un popolo lo consente anzi non solo lo consente ma lo richiama lo determina a livello energetico quando una persona può essere attaccata a livello sottile è perché la sua aura è debole essendo debole essendovi delle crepe diciamo così in quest'aura sono possibili intromissioni penetrazioni il principio della possessione funziona proprio su questi termini il film l'esorcista non è considerato il film horror più efficace e spaventoso di tempi per mero caso ma perché descrive un fenomeno che è reale la gente inconsciamente lo sa che è reale qualcuno lo sa a livello conscio i più lo percepiscono a livello inconscio per cui quella storia è sempre stata percepita come diciamo importante è spaventosa perché descrive qualcosa di vero non perché descrive qualcosa di finto ciò che lascerebbe tutto sommato distanti e distaccati ora per gli eventi collettivi il fenomeno è il medesimo la differenza che si passa da un'anima individuale che può essere più o meno vibrante, più o meno forte, più o meno inattaccabile oppure debole e attaccabile a un'anima collettiva che può avere le medesime qualità di debolezza o di forza di attaccabilità o di invincibilità certi eventi, lo ripeto, sono possibili solamente perché a livello di coscienza collettiva ci sono delle energie vulnerabili ci sono delle crepe all'interno delle quali possono passare delle cose queste cose sono dapprima cose sottili ma poi possono essere anche fenomeni materiali come le guerre, finte o vere che siano le pandemie, finte o vere che siano i disastri di vero tipo, finti o veri che siano in realtà perché una cosa sia vera basta che avvenga nell'inconscio collettivo se io ritengo che una cosa è vera ne partirò le conseguenze psicologiche anche se in realtà all'esterno non sta succedendo niente questo è il motivo per cui negli ultimi decenni ma in realtà da sempre le coscienze individuali e quindi per converso la coscienza collettiva sono state duramente attaccate e manipolate a livello di programmazione televisiva la parola programmazione qua è la più adatta possibile perché si tratta proprio di programmazione della psiche degli individui e dei popoli nel loro complesso una volta che si programma l'individuo lo si è orientato per tutta la sua vita a mano che egli non riesca a invertire il flusso della ruota quindi a bloccare l'inerzia che è in corso quello che è più facile a livello individuale cioè che la persona intraprenda per esempio un percorso di osservazione interiore di cambiamento interiore di progresso interiore è molto più difficile per la massa perché le masse progrediscono a livelli a livelli di gruppo con fenomeni di gruppo e con tempi se non biblici quasi mentre i percorsi individuali per quanto magari lenti impieganti diversi vita però sono comunque più rapidi di quelli collettivi quelli, quello collettivo della massa è un progresso è un progresso che va avanti per ere zodiacali quindi di millenni in millenni è così che succede d'altronde chi non si occupa di sé non va avanti e peraltro se voi non vi occupate di voi qualcun altro se ne occuperà esattamente questo è il principio della programmazione televisiva non solo televisiva che differenza lo evidenziava nell'articolo con l'aspetto espressivo e artistico dei secoli passati nei quali l'umanità è stata a dir poco eccellente da te che siamo famosi in tutto il mondo per la nostra produzione pittorica musicale architettonica nell'articolo ho fatto dei nomi eccellenti ma se ne potrebbero fare davvero tanti altri pensate invece a che musica abbiamo in questi tempi d'altronde il grosso degli artisti contemporanei fa parte di quell'agenda di programmazione che stiamo commentando adesso per cui non sorprende che vi sia una corrispondenza tra quell'agenda la loro arte se vogliamo chiamarla così e gli effetti della loro opera naturalmente questa non è arte la vera arte indica i cieli non gli abissi se vedete che qualcuno che sia tramite un film la musica un romanzo qualunque altra cosa in qualche modo indica evidenze energie inferiche sappiate uno che quella non è arte e due che dovreste tenervene il più lontano possibile perché si tratta come dicevamo prima di influenzamenti e di programmazione vera e propria che agisce sotto banco nel modo più sud serpentesco e ingannevole possibile questo è il motivo per cui è fondamentale portare avanti un percorso interiore coltivare la conoscenza che è spesso il punto di ingresso l'abbrivio di tale percorso uno sguardo scaltro che solitamente è l'elemento risultante l'effetto della causa dello studio c'è dell'interessanza a certe cose e dopo che si sviluppano un certo sguardo scaltro solitamente si sviluppano anche energie più rarefatte più forti più luminose quelle energie che rendono la vostra aura forte luminosa impenetrabile o comunque difficilmente penetrabile se questa cosa avvenisse a livello di popolo i drammi e i problemi dell'umanità sparirebbero all'istante ipotizzando che questa cosa avvenga all'istante siccome non succede così questa cosa avviene gradualmente e quindi i problemi si risolvono gradualmente coloro che conoscono l'importanza del percorso spirituale sono tenuti ad essere dei pionieri sono quelli che io chiamo l'avanguardia spirituale hanno una responsabilità importante anche se non fanno divulgazione se non scrivono libri se non tengono seminari conferenze anche se non fanno niente il lavoro interiore la divulgazione spicciola nei confronti di chi di chi sia intorno parlando di certe cose regalando certi libri indicando non so il sito internet di qualcuno una pagina social di qualcuno anche questa divulgazione se in molti milioni di persone interessate a questi argomenti facessero tutti questa piccola divulgazione l'effetto sarebbe grandissimo e quindi potentissimo ricordatevelo sempre siete all'avanguardia spirituale e avete un compito anche voi bene il video termina qua vi raccomando a proposito di canali utili almeno spero che lo sia l'iscrizione alla mia newsletter che è il modo più diretto per rimanere in contatto e aggiornati con il mio lavoro con tutte le varie cose cioè gli articoli le novità sui social i video che registro come questo i libri che scrivo quando vengono pubblicati e eventuali altre cose secondarie avete visto che i social fanno quello che vogliono per cui noi dobbiamo tutelarci specialmente le avanguardie spirituali devono prenderne atto e agire nel modo più responsabile potente e intelligente loro possibile vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buone cose per tutto e vi do appuntamento la prossima video e vi 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 Grazie a tutti.